Scontro politico sull'autonomia, Calderoglia-Vicenza annuncia il supercomitato di 50 esperti. Sull'autonomia Nicola Finco avverte i Veneti, dobbiamo fare l'obbio, avremo il sud contro. Dominano i progetti fra Baxi e Pengua, ex Ghiara e San Lazzaro, ma per i quartieri i conti non tornano. Torna il Carnevale in città con un premio speciale dedicato ad Elide Imperatori Bellotti. Nascono tre nuovi bandi per la crescita e lo sviluppo sostenibile del grappa. Anche nel Bastanese un anno di operazioni svolte in tutta la provincia dei Carabinieri in materia di lavoro. Ladri seriali delle aree di servizio incastrati dai Carabinieri in avicina i furti contestati. Dopo più di un mese di ricovero è stato dimesso Giorgio Miatello, ora sarà sentito dal magistrato. Buonasera a tutti voi telespettatori, benvenuti a questa nostra nuova edizione serale di Bastano Tg. Il ministro Roberto Calderoli oggi è stato a Vicenza. Parla di autonomia dopo l'ok del Consiglio dei Ministri e il suo disegno di legge. E a seguire i lavori per noi sul posto c'è Luisa Bertini che abbiamo in collegamento. Buonasera Luisa. Sì, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo qui alla fiera del Rellì a Vicenza dove è arrivato il ministro Roberto Calderoli all'indomani dell'approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri. Oggi grande protagonista della giornata è stato il tema dell'autonomia, ancora più sentito qui nel Vicentino perché ricordo che la provincia di Vicenza nel 2017 per il referendum segnò un po' il record di affluenza alle urne e di voti favorevoli per l'autonomia. Oggi giornata anche di polemiche. Sentiamo che cosa ci ha detto il ministro Calderoli. L'istruzione e sanità e le materie che possono essere oggetto di evoluzioni non sono state definite da questo progetto di legge ma sono il contenuto della Costituzione riformata dalla sinistra nel 2001. Quindi noi prendiamo quello che è il contenuto della Costituzione. E chi dice che l'Italia viene spezzata a metà? Due mesi che continuo a chiedere dove sia l'articolo, il comma o dove c'è scritto qualcosa del genere. Oggi ho letto anche Maiorino che dice che toglieremo soldi al comune ma probabilmente l'autonomia farà perdere i capelli, farà rendere potenti. Non lo so dove trovano queste cose ma ne sparano di tutti i colori. Quali sono i prossimi step, ministro? Quando verrà riunita la cabina di regia? Avete già un calendario? Guardi, ho proprio predisposto oggi le lettere riferite a tutti i ministeri, a UPI, ANCI e i vari soggetti che parteciperanno. Quindi io credo che proprio a brevissimo oggi stiamo facendo una cernita, una raccolta di quelle che sono tutte le funzioni legislative e amministrative svolte dallo Stato e svolte dalla Regione. Dopodiché la cabina di regia inizierà a lavorarle. Ci sarà anche un comitato di figure, di tecnici, di esperti, professionisti di alto livello. Ha già individuato delle figure? Si è fatta un'idea di quanti dovranno essere? Come dovrà composto e come dovrà operare? Le persone sono state già individuate, ho già ricevuto la loro disponibilità. Siamo oltre 50 e veramente abbiamo il top del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e dei professori economici. Si può dire qualche nome, magari di qualche Veneto che ha già collaborato anche con il presidente Zaia che aveva costruito una squadra di altissimo profilo per l'autonomia. Me ne viene in mente uno che ho proprio sentito stamattina. Non giovanissimo. Il percorso dell'autonomia ha avuto un nuovo impulso, ora serve però una maggiore unità da parte di tutto il Veneto. Parola del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. L'autonomia riprende slancio dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri, ma dal Veneto arriva una sorta di chiamata alle armi in un momento molto delicato del percorso autonomista. Attenzione perché la strada è ancora molto lunga, c'è tutto il percorso parlamentare, c'è il percorso delle consultazioni con il territorio, con le varie conferenze, con le regioni, quindi sicuramente la battaglia è solamente all'inizio. Senza considerare che poi noi ci troveremo contro tutto l'apparato burocratico, statale e ministeriale, una forte componente politica soprattutto legata alle regioni del Mezzogiorno. La politica ha fatto la sua parte e la farà ancora, ma il vicepresidente del Consiglio Veneto avverte che questa è una battaglia che non può condurre solamente la politica, ma devono farsi sentire anche le varie associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale, sindacale, sociale e culturale delle nostre regioni. Altrimenti una battaglia solamente politica non ha alcun senso. La battaglia, ribadisce Finco, deve partire proprio dal territorio. Questa è una battaglia del territorio e se il territorio chiede autonomia e crede nell'autonomia deve anche ovviamente in maniera sostanziale ma in maniera corale portare avanti questa battaglia e farsi sentire. Ma come si porta avanti questa battaglia? Bisogna fare un'azione di lobby, come lo sta facendo al Mezzogiorno. Leggiamo in questi giorni su tutti i quotidiani nazionali che tutto il sud si sta schierando contro. Però non leggo dall'altra parte il mondo produttivo del nord che sta facendo invece le barricate per difendere un diritto costituzionale. Quindi ci dobbiamo aleare, fare massa critica e far sentire le ragioni del nord perché l'autonomia non è un qualcosa che divide il paese ma anzi lo va a rafforzare e casomai lo va a sistemare. E alla luce di quanto approvato dal Consiglio dei Ministri siamo andati in città per chiedere ai bastanesi cosa si aspettano ora in merito all'autonomia. Per il Veneto e non solo, il 2 febbraio sarà ricordato come il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sull'autonomia. Un passo in avanti importante che è stato percepito in che modo a Bassano. Scopriamolo insieme. Trovo scandaloso invece che dal 2017 ad oggi si sia rinviato, rinviato si ne die e invece trovo una cosa molto positiva che oggi si comincia a parlare di questo e si affronti la situazione. Autonomia che significherà avere competenza su diverse materie ma quali le più importanti? Quali quelle dove il Veneto deve lavorare di più? Sicuramente su tutte le materie che sono di competenza regionale quindi penso alla caccia, penso alla sanità in primis, penso alla scuola. Sicuramente sanità in primis presumo, scuola anche no più la sanità sicuramente e poi anche un discorso magari fiscale ma non credo ci arriveremo mai. Ci saranno regioni che correranno e regioni che resteranno indietro. Per certi versi o per alcune materie potrebbe essere anche interessante la cosa. Sicuramente secondo me le regioni che avranno più difficoltà resteranno indietro. Proprio sulle materie qual è una delle priorità per il Veneto? Ad esempio la scuola, la sanità? Sanità secondo me. L'autonomia secondo me è giusta se è autonomia per tutti ma se diciamo prima il Veneto, secondo la Basilicata e terza la Sicilia non mi va proprio bene. Verrà fatta, sicuramente verrà fatta ma non in quel modo che loro vogliono. Secondo me non nominano l'Italia della nazione perché ci sono altre regioni virtuose tipo il Trentino Alto Adige che è già regione autonoma e funziona benissimo. Poi bisogna vedere i tempi, dico solo questo. L'aspetto più importante dell'autonomia differenziata potrebbe essere cosa? La scuola, la sanità, che cosa? Diversi aspetti, scuola e sanità in primo luogo credo. Da Baxi a Pengo, dall'ex IAR a San Lazzaro e abbassano in azione un domino di progetti e spostamenti che però non convince i quartieri. Nel domino di interventi, spazi, capannoni che va da Pengo a Baxi e dall'ex IAR fino a San Lazzaro i conti non tornano affatto. E chi ha assistito alla riunione indetta proprio da Baxi per presentare i piani per l'area che interessa San Marco e Cabaroncello ha avuto modo di prendere le misure ai progetti. La coperta è un po' corta perché a fronte di 30.000 metri quadri di parco di San Marco si vanno a costruire 100.000, si vanno a occupare 100.000 metri a San Lazzaro quindi la proporzione non è proprio quella corretta. Avete sentito, la coperta è corta e sono molti i quartieri che rischiano di restare con i piedi al freddo. Per sistemare un quartiere si mette in crisi, poi si mettono in crisi altri quartieri della zona sud di Bassano perché parliamo di San Lazzaro e di Riva Bianca ma i quartieri coinvolti sono 5 o 6. Insomma, il progetto che vede Baxi subentrare a Pengo con quest'ultimo che a sua volta entra in San Lazzaro va a toccare anche il quartiere Pre, Borgo Zucco, il quartiere Merlo e San Fortunato che hanno a che fare con la strada cartigliana. E visto che si parla di traffico, ecco le perplessità dei quartieri. Nelle premesse di Baxi c'era una riduzione del traffico, dei camion, ma riteniamo non sia così perché comunque se amplia il capannone il traffico sarà lo stesso dei camion i componenti non arriveranno più da magazzini esterni ma arriveranno dai fornitori. Le macchine che verranno costruite da Baxi saranno di volume triplo di quelle attuali per cui nel trasporto dei camion va da sé che ci vorranno il triplo dei camion per trasportare le macchine prodotte da Baxi in futuro. Immaginando Bassano come un risico basta un piccolo sforzo di fantasia per vedere bandierine e piccoli carri armati di plastica dislocati fra quartieri e arterie strategiche. Ma il fulcro di tutto questo, che lo ricordiamo non è affatto un gioco, resta sempre San Lazzaro. I cittadini vogliono chiarezza, prima di tutto dall'amministrazione di Elena Pavà. Le cose stanno progredendo abbastanza velocemente e quindi non so nemmeno quanta informazione ci sia su tutto ciò perché anche noi abbiamo scoperto recentemente queste cose per cui sicuramente chiedono informazioni, sicuramente non vogliono gli interventi. E torna il Carnevale in città con un premio speciale dedicato ad Elide Imperatori Bellotti. Torna dopo tre anni di pausa forzata il Carnevale a Bassano organizzato dalla Pro Bassano. E quest'anno un premio speciale sarà dedicato a Elide Imperatori Bellotti, anima della proloco cittadina scomparsa lo scorso 24 novembre. Giornata clou domenica 19 febbraio a partire dalle 14.30 da Via Velo a Piazzale Cadorna la sfilata dei carri allegorici dei gruppi mascherati, valida per il concorso Nasondoro 2023. Alle 18 saranno premiati i migliori cinque carri decretati dalla giuria tecnica, scelti per realizzazione, movimenti, coreografie e costumi. Apriranno le maggiorette di nove accompagnate dalla banda di Campolongo sul Brenta e animerà la manifestazione la banda orchestra Bovo di Carmignano sul Brenta. Marte di Grasso il 21, protagonista in Piazza Libertale Mascherine che parteciperanno al concorso Bautina d'Argento e alla prima edizione del premio speciale Elide Imperatori Bellotti. Le premiazioni si terranno alle 17.30. Riguarda anche il Bassanese, un anno di operazioni svolte in tutta la provincia di Vicenza dai carabinieri in materia di lavoro. Riguarda anche il Bassanese, il servizio svolto nel 2022 dal nucleo carabinieri rispettorato del lavoro di Vicenza, NIL, mirato al controllo dei cantieri, la lotta al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento del lavoro nero, sicurezza sul lavoro. I dati delle operazioni hanno evidenziato tra le altre l'indagine Smart Romania condotta unitamente ai carabinieri di Bassano che ha consentito di denunciare 140 cittadini romeni i quali, mediante false autocertificazioni, avevano percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per oltre 460.000 euro. È stata quindi la volta di Chicken Collection, operazione condotta unitamente dai militari di Rosà e del nord di Bassano del Grappa. L'attività, inizialmente sviluppata nella provincia di Vicenza, si è poi conclusa nel veronese e ha portato all'emissione da parte del Tribunale di Verona di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un cittadino marocchino per sfruttamento della mano d'opera in agricoltura. Durante le indagini sono stati identificati 15 lavoratori sfruttati e tutti irregolari sul territorio nazionale. Sfruttamento è caporalato, fenomeni su cui i carabinieri stanno lavorando in maniera assidua. La provincia di Vicenza, come tutte le province della regione, ha una forte vocazione imprenditoriale, ma questo deve essere un punto di forza, e lo sarà, perché il nostro interesse è quello di formare il più possibile, di sensibilizzare su questo settore, proprio per accorciare al minimo la forbice di rischio. Il passo subito che va fatto è certamente avere la collaborazione di tutti, partendo dal laboratore, arrivare fino alle associazioni datoriali, che ci segnalino i problemi e intervenire in maniera molto mirata. Presentati in municipio a Bassano, tre bandi per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Monte Grappa. Il Monte Grappa, un territorio unico, riserva della biosfera Mabunesco, un ambiente dove è possibile coniugare la valorizzazione dell'ecosistema e la sua biodiversità con strategie di sviluppo sostenibile. Il progetto Biab, laboratorio dedicato al protagonismo giovanile nell'area del Monte Grappa, entra ora in una fase cruciale con tre bandi di finanziamento, l'occasione per proporre idee e progetti, un'opportunità concreta per chi ha a cuore quei luoghi. Questo progetto di Biab, grazie appunto al contributo di Fondazione Cari Verona, ci consente di dare una prima risposta a un percorso che una trentina di giovani delle tre province ha fatto, proprio interrogandosi su quello che deve essere il futuro di questa riserva di biosfera. Quindi oggi andiamo a dare l'opportunità di mettere sul campo energie e risorse, ma soprattutto idee innovative, che ci auguriamo arrivino sempre più dai nostri giovani, perché uno degli obiettivi della riserva di biosfera è proprio creare consapevolezza e nuovi stili di vita, oltre che affiancare le aziende nella trasformazione nel segno della sostenibilità. 185 mila euro a disposizione, tre bandi per un massimo di 30 progetti. Uno che ha come finalità quello della comunicazione e dell'educazione, sempre in un'ottica sostenibile. Il secondo bando è lo sviluppo turistico, sempre ovviamente in un'ottica sostenibile e il terzo bando è lo sviluppo rurale, sempre appunto incentrato in un'ottica sostenibile. La cosa bella, caratteristica di questi bandi, è che hanno come principali protagonisti i giovani, gli under 30. Tutte le informazioni sui bandi si possono trovare sul sito www.biabmontegrappa.com. E ancora altre notizie dal territorio in breve. Riconsegnato il parco della scuola dell'infanzia Maria Amatori di Tiene, un'area di 700 metri quadri, riqualificata dal comune con un investimento di 120 mila euro, attrezzata di giochi anche inclusivi per una spesa ulteriore di 15 mila euro. Villa Morosini Cappello a Cartigliano si è colorata di blu, aderendo all'iniziativa per conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo. Questo per promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra. Cittadella celebra l'ottantesimo anniversario della battaglia di Nicolai Efka. Tante le iniziative in programma, tra queste la serata dei Cori Alpini, sabato 11 febbraio al convento di San Francesco, e domenica 12 la cerimonia di commemorazione. Ladri seriali delle aree di servizio incastrati dai carabinieri, una decina i furti contestati. Tabaccherie, aree di servizio, bar. Erano questi i bersagli preferiti dalla banda di tre predoni fermati dai carabinieri di Mestrino. Si tratta di tre operai, un 24enne russo, un 25enne di Vicenza, residente a Piazzola sul Brenta, e un 31enne vicentino, residente a Grisignano di Zocco. Le indagini erano partite a settembre dello scorso anno dopo un furto nella tabaccheria di Mestrino. Nel solo mese di ottobre poi si sono susseguiti numerosi colpi tra l'Alta Padovana e la provincia di Vicenza. Il primo in un bar di un'area di servizio di Gran Torto dove sono stati rubati biglietti gratta e vinci per un bottino di 2.700 euro. Poi due tentati colpi alle colonine self-service a Culturolo e Gran Torto. La banda aveva colpito anche a Veggiano e Limena in due aree di lavaggio self-service. Nel frattempo a Castegnaro, in provincia di Vicenza, avevano rubato targhe di auto. Anche a novembre non si sono mai fermati, rubando in un'area di servizio a San Martino di Lupari, in una colonina self-service a Curtarolo e in un bar di un impianto di pesca sportiva a Camisano Vicentino. Seguendo le loro tracce, i carabinieri sono riusciti a intercettare la banda a Grisignano di Zocco trovando nel loro bagagliaio attrezzi per lo scasso e un bottino da 15.000 euro. Nelle abitazioni dei tre operai, i militari hanno trovato anche carte prepagate di carburante ritenute provento di furto. E dopo più di un mese di ricovero è stato dimesso Giorgio Miatello. È stato ferito gravemente il 27 dicembre per la morte della moglie. È in carcere la figlia Diletta. Ora è sentito dal magistrato. Giorgio Miatello è stato dimesso dall'ospedale dopo 35 giorni. Quando è stato ricoverato era in condizioni gravissime. Ora sta meglio. Tutto era accaduto il 26 dicembre quando la moglie Maria Angela Sarto è stata aggredita e uccisa nella loro abitazione di San Martino di Lupari. Omicidio per il quale è accusata una delle due figlie Diletta che si trova in carcere a Verona sotto stretta sorveglianza con la pesante accusa di omicidio volontario. Unico testimone di quanto è accaduto. Miatello ora sarà sentito dai magistrati. Almeno questa è sempre stata l'indicazione arrivata dal tribunale per ricostruire nei dettagli quanto è accaduto quella notte. Ora l'uomo, 89 anni, che aveva riportato gravi ferite anche alla testa è ospite di una struttura di riabilitazione nell'alta padovana. La sua testimonianza potrebbe essere raccolta dai magistrati alla presenza dell'accusa, della difesa e del legale dell'altra figlia che è stata poi quella che ha lanciato l'allarme una volta entrata nella casa dei genitori e scoperto quello che era avvenuto durante la notte. Una testimonianza dunque che sarà davvero decisiva. Focus invece alle 21.15 con il nostro direttore Luigi Baccialli. Ospiti questa sera saranno Gianangelo Boff, Pierangelo Del Zotto, Michele Favero, Emanuele Munari, Ivan Palasgo, Federica Pietro Grande, Massimo Venturato. Ora in chiusura di telegiornale diamo spazio alle previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia. Buona serata.